Novità a polla in tema di viabilità. Il comune guidato dal sindaco Massimo Loviso ha infatti pubblicato un'ordinanza dirigenziale con i nuovi dispositivi di traffico per la viabilità cittadina a parziale modifica e integrazione dell'ordinanza dirigenziale del 18 giugno scorso. L'ordinanza prevede di istituire in via Luigi Pica un senso unico di circolazione con direzione di marcia consentita da via chiuse all'ingresso di piazza Gerardo Ritorto. Estituita la sosta su un solo lato dove indicato dagli stalli di vieto di sosta sul lato opposto, il solo tratto di via Luigi Pica compreso tra via Luigi Curto e piazza Gerardo Ritorto sarà a doppio senso di circolazione ovvero chi esce da piazza Gerardo Ritorto avrà la possibilità di mettersi su via Luigi Curto. Senso unico di circolazione anche su via Teodoro Momsen con direzione di marcia consentita da via Luigi Curto a via chiuse. Per quest'ultima strada viene istituito interamente il senso unico di circolazione con direzione di marcia consentita da via stazione a via Teodoro Momsen. Interessate dai nuovi provvedimenti anche via della stazione a doppio senso di marcia ma autobus e mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate potranno percorrerla solo con direzione di marcia consentita da largo Tanagro alla intersezione con via Prato della Corte. Istituito quindi l'obbligo di svolta a destra verso via Prato della Corte per autobus e mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate che in via stazione provengono da via Fornaci e via della Lana anch'essa senso unico di circolazione con direzione di marcia consentita da via Prato della Corte a via chiuse. Al termine dei primi 12 mesi, si legge ancora nell'ordinanza, verrà considerata terminata la fase di sperimentazione e il provvedimento, salvo revoca, diventerà definitivo.